Prima realizzano una sala dedicata ai convegni e conferenze nella lavecchia del nosocomio e poi ne dispongono la chiusura perché quella parte dell'ospedale dell'Annunziata non è sicura e quanto denuncia il Tribunale per i diritti del malato che grida lo spreco. La sala conferenza è costata 20.000 euro e per i vertici del TDM si tratta di una spesa inutile che si poteva risparmiare dal momento che è stata allocata nella lavecchia. Nella lavecchia è stato sistemato un ambiente per convegni, per esigenze varie, quindi un ambiente tutto rifinito, nuovo in pratica, se non che sono venuti sia il direttore generale Tordera che la sua vice che la signora Colizza ed hanno ravvisato la irregolarità di una situazione del genere perché un nuovo ambiente o rinnovato ambiente è situato in un ala a rischio. All'indomani del tragico sisma che ha colpito la popolazione del reatino è stato proprio il direttore generale dell'Aslo 1, Rinaldo Tordera, accompagnato dalla sua vice Teresa Colizza, ad effettuare un sopralluogo nella lavecchia dove al momento restano i reparti di oncologia oculistica e altri servizi dopo il trasferimento di ostetricia e ginecologia. Sono venuti e hanno stabilito che quella parte dell'ospedale non è stata messa a norma, puntualizza Edoardo Facchini, responsabile del TDM. Il direttore ha detto che entro il 2017, fine 2017, consegneranno i lavori. Ora io capisco che l'urgenza è dovuta alla situazione particolare, però se ci avessero pensato prima noi abbiamo detto che i lavori erano stati interrotti, rallentati eccetera. Sono ancora in ritardo sulla base del cronoprogramma che noi abbiamo qui, quindi che si dessero una mossa e si assumessero le responsabilità. Tocca a Franca del Monaco ricordare che le battaglie condotte dal TDM hanno portato buoni frutti. Trasferimento punto nascita alla nuova, potenziamento oncologia con due dottoresse, lavori ripressi sul cantiere del nuovo nosocomio, audit civico per 118 pronto soccorso, abolizione super ticket di 10 euro con 1100 firme raccolte su 3.500 in totale in regione, l'attivazione del triage al pronto soccorso e dello sportello cortesia al CUP, oltre alla fornitura dei cibi a proteici. Da stamani intanto risultano attive le tre sale operatorie che dovevano essere inaugurate con tanto ritaglio del nastro il 31 dicembre 2015. Sulla rete emergenza urgenza e sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, il TDM conclude sostenendo che gli ultimi casi dimostrano che non si può parlare solo di fatalità.